La cosa che ancora nessuno di voi sa è che anch'io quest'anno ho una one more thing Una cosa che vi vorrei tanto dire adesso e che vi renderà letteralmente orgogliosi dell'Italia Oserei dire, ma non ve la posso dire, non posso Ve la dirò il 10 settembre Il 10 settembre uscirà credo il video più importante della storia sul mio canale Dove vi dirò questa cosa importantissima E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video domenicale In cui riassumeremo le novità più interessanti accadute nel mondo della tecnologia durante l'ultima settimana E come sicuramente avete potuto intuire dallo sfondo del mio MacBook Abbiamo novità ufficiali da parte di Apple per quanto riguarda l'evento di settembre Ma oltre a queste abbiamo anche dei leak sui nuovi prodotti che, indovinate un po', ci ha fatto Apple stessa Quindi sono da considerare novità al 100% attendibili Non perdiamo tempo e cominciamo subito Ok, e prima parliamo dell'evento effettivo, del Keynote Durante il quale Apple presenterà tutti i suoi nuovi prodotti per la fine del 2018 e buona parte del 2019 Come avevamo ampiamente previsto, Apple ha finalmente ufficializzato la data in cui si svolgerà il Keynote Sarà il 12 settembre Oramai ne eravamo sicuri, sono state inviate tutte le mail e tutti gli inviti In Italia si terrà alle 19 per il nostro fuso orario e si potrà seguire in live streaming direttamente sul sito apple.com slash events Invece l'evento vero e proprio si terrà a Cupertino allo Steve Jobs Theater Quello che sappiamo per certo è che durante questo evento verranno presentati i nuovi iPhone XS, XS Plus Probabilmente anche l'iPhone 9, anche se quest'ultimo poi verrà rilasciato in un secondo momento Siamo anche sicuri dell'esistenza ormai dell'Apple Watch Series 4 ed è anche molto probabile che verranno presentati anche dei nuovi Mac Non si sa ancora di che linea E boom! Questa è la locandina ufficiale dell'evento Come ogni anno l'internet si è sbizzarrito perché Apple include sempre qualche easter egg, qualche suggerimento Qualche anticipazione all'interno della copertina per farci intuire qualche kick, diciamola one more thing La cosa che sempre nessuno si aspetta è Apple tira fuori all'ultimo minuto E la prima cosa che è stata notata è che penso sia la prima volta che in questa copertina non compare in alcun modo il logo della mela C'è semplicemente questo cerchio che alcuni quindi hanno ipotizzato si trattasse di un nuovo Mac Pro Potremmo vedere il nuovo Mac Pro del 2018, quindi una workstation computer fisso di Apple ha questo keynote Altri invece hanno semplicemente ipotizzato che si possa trattare dell'Apple Campus visto dall'alto Ma questo è poco rilevante Però possiamo notare un'altra cosa che è prevalente il colore d'oro, dorato Sembra più un bronzo però diciamo che è il colore gold E questo è praticamente sicuro, sta a significare il fatto che quest'anno i nuovi iPhone XS e XS Plus Saranno sì in colorazione nera e bianca ma anche in colorazione gold, dorata Quindi avranno il bordo tutto fatto in acciaio inossidabile stainless steel colorato in oro E secondo me sarà un abbinamento fantastico Ad ogni modo prima di passare alla notizia successiva che secondo me è ancora più interessante Vi avviso che come ogni anno sono anche stati sviluppati dei wallpapers fatti su misura secondo le locandine dell'evento Si trovano un po' per tutti i dispositivi, per l'Apple Watch, per gli iPad, per il Mac, per l'iPhone Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, vi lascio il link di download qua sotto in descrizione E sicuramente molti di voi si chiederanno come faccio ad avere tanta sicurezza principalmente su tre cose Sul fatto che quest'anno vedremo i XS e XS Plus, sul fatto che questo sarà veramente il loro nome E sul fatto che avranno la colorazione gold Queste tre cose ci sono state involontariamente confermate direttamente da Apple Vi spiego com'è andata Come vi ho appena detto, Apple ogni anno fa una live streaming sul suo sito web Dal quale milioni di persone possono seguire la conferenza Quindi ovviamente come tutti gli eventi mondiali che si rispettano Apple diverse settimane prima comincia a fare le prove e a mandare in streaming appunto dei filmati di prova Molti utenti lo sanno e intercettano questo flusso streaming per tentare di capire che cosa manda in onda Apple per prova E in particolare Guilearn Rambo si era collegato per cercare di vedere quali erano i flussi streaming di prova adottati quest'anno Ed è riuscito a intercettare questo, che è una pubblicità a quanto pare dell'AirPower Un altro dispositivo minore che dovremmo vedere all'evento I ragazzi di 9to5Mac invece hanno intercettato un qualcosa di più particolare Apple sul suo sito web per pochissimi secondi aveva mandato in onda lo spot televisivo dei nuovi iPhone XS e XS Plus Da cui abbiamo ricavato questa immagine Questi saranno a tutti gli effetti i nuovi iPhone XS e XS Plus Quest'immagine viene direttamente da Apple ad alta risoluzione Quindi sono loro, è confermato e abbiamo anche il loro sfondo che presenteranno nel blocco schermo Ecco quindi come facevo essere così sicuro sulla colorazione gold Perché se notate sono in colorazione gold Sul fatto che si chiamino XS e XS Plus e sul fatto che appunto li vedremo a settembre E in questa pubblicità peraltro si vedeva anche l'Apple Watch Series 4 Che è il nuovo Apple Watch, eccolo qua Come potete vedere come avevamo previsto i bordi sono stati ridotti Niente circolare, quindi questo conferma il fatto che i cinturini dei vecchi Apple Watch funzioneranno anche su questo E niente, sono veramente ansioso di scoprire tutta questa tecnologia Fatto sta che adesso è ufficiale perché è stata Apple a dircelo Ovviamente c'è chi sostiene si sia trattato di un errore che Apple non voleva mandare in onda a quel video nello specifico C'è chi sostiene invece che Apple lo abbia un po' fatto apposta per generare hype Ma il risultato non cambia Queste sono notizie sicure, vengono direttamente da Apple E ora che appunto vi ho detto con certezza cosa vedremo Proviamo a ipotizzare cos'altro potremo aspettarci Quasi sicuramente verrà presentato l'iPhone 9 Ovvero l'iPhone col display LCD da 6,1 pollici Quello che verrà in 5 o 6 colorazioni diverse ne abbiamo parlato tantissimo nei video scorsi Però anche questa è un'ulteriore conferma del fatto che verrà commercializzato in un secondo momento Magari verso ottobre, novembre Dovremmo vedere l'AirPower Ovvero la base di ricarica wireless per cofanetto delle AirPods, iPhone e Apple Watch E poi dovremmo vedere effettivamente le nuove AirPods con ricarica wireless Per quanto riguarda invece l'aggiornamento della linea Mac È quasi sicuro che vedremo qualche Macintosh aggiornato Potremo vedere un nuovo Mac Pro Così come potremo vedere un nuovo iMac, l'iMac del 2018 Oppure potremo vedere i nuovi Mac Mini che si rumorano da un bel po' Sicuramente non vedremo dei nuovi MacBook portatili perché il MacBook Pro è stato appena aggiornato Magari potremo vedere dei nuovi MacBook da 12 pollici ma ne dubito fortemente In ogni caso è molto probabile che qualche Mac verrà aggiornato Poi ovviamente verrà rilasciato iOS 12 al pubblico assieme a WatchOS 5 e MacOS Mojave I nuovi tre sistemi operativi per la fine 2018 e inizio del 2019 E poi chi lo sa, magari Apple potrebbe sorprenderci con qualche One More Thing La cosa che ancora nessuno di voi sa e che ho iniziato a spoilerare su Instagram È che anche io quest'anno ho una One More Thing Una cosa che vi vorrei tanto dire adesso e che vi renderà letteralmente orgogliosi dell'Italia Oserei dire ma non ve la posso dire, non posso Ve la dirò il 10 settembre Il 10 settembre uscirà credo il video più importante della storia sul mio canale Dove vi dirò questa cosa importantissima Io ho già detto troppo quindi se questo video vi è piaciuto Fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice Fatemi sapere cosa ne pensate dei nuovi iPhone XS, XS Plus Di questo fatto che Apple se li ha liccati Cosa vi aspettate dal Keynote Se lo guarderete, se non lo guarderete Tutto qui sotto nei commenti Seguitemi su tutti i miei social network In particolare Instagram Come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione Cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei due video Invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi Io vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo in un prossimo video Ciao